Grazie a tutti. Abbiamo l'appuntamento telefonico per il nostro spazio domandando con Franco Bettoni che è il presidente dell'AMNI, l'AMNI è l'associazione delle vittime del lavoro, diciamo così coloro che sono rimasti mutilati o hanno subito comunque conseguenze importanti per la loro salute. Il 28 aprile quindi domani è la giornata internazionale delle vittime nel mondo del lavoro, circa 2,3 milioni l'anno di persone perdono la vita sul proprio posto di lavoro sia per incidenti diretti sia anche per le conseguenze delle malattie professionali. Noi intervistiamo l'AMNI perché l'AMNI è stato da sempre protagonista di numerose iniziative in questa giornata come in altre giornate dell'anno, quest'anno c'è una particolarità, sentiremo appunto dalle parole del suo presidente Bettoni. Poi alle mezzogiorno quindi l'appuntamento consueto con il Sinagi, oggi avremo con noi Giuliano Barbieri, segretario del Sinagi di Modena e poco prima quindi torno alle 11.30 invece l'appuntamento con le notizie, con Editoria News. Cerchiamo un po' di approfondire alcuni aspetti di questo mondo complesso che va capito, va approfondito, quello dell'editoria di cui fanno parte naturalmente anche gli edicolanti. Bene, noi andiamo avanti quindi con la nostra rassegna stampa dando un'occhiata ai titoli, oggi c'è praticamente lo stesso titolo diciamo così su tutti i giornali in edicola, escluse pochissime eccezioni tra cui l'Unità, poi vedremo insomma di che cosa è stata capace di parlare in prima pagina. L'Unità e il titolo riguarda un nuovo indagato, questa volta appunto concorso esterno per la criminalità, quindi un'accusa piuttosto pesante che è il coordinatore del PD regionale. Il fatto quotidiano, cominciamo come di consueto da questo giornale, campagna indagando l'indagato, il leader del PD voti per favori ai boss casalesi, addirittura il presidente regionale del partito ha chiesto e ottenuto sostegno. Però si è dimesso concorso esterno in associazione camorristica, le intercettazioni del clan dicono dobbiamo portare a Graziano, questo è il nome appunto Stefano Graziano del coordinatore del PD regionale, dobbiamo portare a Graziano quei fondi spostati quando era appunto consulente di Palazzo Chigi per l'appalto del polo della legalità. Nella scatolata del fatto quotidiano la corruzione è costituzione, ci servono le armi antimafia, dice Scarpinato in un'intervista, le leggi sono fatte per salvare dal carcere i colletti bianchi, rincara la dose dopo appunto l'intervista di Per Camillo Davigo che è il nuovo presidente dell'Associazione Nazionale Magistratica, aveva indicato appunto le responsabilità della politica, quindi anche da un magistrato a un semplice magistrato arrivano accuse molto precise, c'è da dire in questo caso il procuratore generale di Palermo dice delle parole molto chiare, frutto anche della sua esperienza. Il sistema delle tangenti è nello statuto materiale del Paese, bisogna alzare il rischio penale con le stesse norme su intercettazioni, prescrizioni e infiltrati usate contro le cosche. Ecco, questa è un'affermazione piuttosto forte da parte del procuratore generale di Palermo. Andiamo avanti, il giornale, il consulente di Renzi indagato per Camorra, titola il giornale con l'occhiello guai democratici e poi campagna bufera sul numero del partito, l'uomo dei casalesi, tengo per il PD. Di spalla servono 15.000 soldati per difendere i nostri pozzi in Libia, è l'analisi del generale Carlo Jean sul giornale. Libero gli affari del PD con Gomorra, secondo avviso a Renzi, titola libero. Corriere della Sera, voto Camorra, bufera sul PD. È un titolo che in realtà non occupa proprio l'apertura, ma il centropagina, l'apertura e la scatola alta vengono dedicate a Brennero, da Vienna, attacchi a Roma, Bundesbank, Padoan, troppo ottimista. Questa è appunto la titolazione del Corriere della Sera. Passiamo a Repubblica. Il presidente PD in campagna, indagato per Camorra e voti, appalti ai casalesi, Graziano si sospende, aveva avuto un incarico dal governo e poi di spalla Bundesbank. Il vostro debito minaccia l'Unione Europea. A centropagina, a bella foto sul caso Reggeni, i Reggeni liberate il nostro consulente, sapete che è stato arrestato il consulente egiziano, corrispondente della famiglia Reggeni, per seguire la vicenda delle cosiddette indagini sull'assassinio del giovane ricercatore italiano. Paura per l'attivista egiziano, arrestato alla protesta di Amnesty International. La stampa Bundesbank all'attacco, l'Italia ha violato i patti, titola appunto in apertura. Non si occupa, con troppa evidenza, dell'arresto del coordinatore regionale della campagna del PD. Lo mette in una, c'è da dire, molto risicato, di spalla, appalti truccati dai casalesi, indagato il capo del PD campano. E poi a centropagina le foto dell'esultanza per la vittoria dello Scudetto. Quinto Scudetto per la Juve. Il messaggero, pensioni, così l'uscita anticipata, poi a centropagina, appalti alla camorra, indagato il presidente del PD campano. Vediamo appunto l'unità come titola questa notizia, che per tutti gli altri giornali vale l'apertura. Non c'è posto, titola l'unità. I conservatori inglesi rifiutano 3.000 bambini rimasti solo nel campo profughi di Calais, laboristi. Vi giudicherà la storia. E la Norvegia offre 1.000 euro ai migranti per andarsene. Questo è il titolo di apertura. C'è la notizia sull'indagine di Graziano, ma è relegata nel taglio basso in una finestra molto piccola. L'ha indagato per taggenti, si sospende il dirigente PD. La parola camorra e casalesi non è nemmeno menzionata nel titolo, ma tant'è appunto, come abbiamo osservato più volte. L'unità preferisce sempre parlare d'altro. Il mattino appalto ai clan, bufera sul PD. Il secolo XIX appalto ai clan dei casalesi, bufera sul PD, gazzetta del Mezzogiorno. Invece l'Eni rassicura i lucani, si riferisce chiaramente all'impianto Tempa Rossa e a tutte le attività estrattive che l'Eni ha in Basilicata. L'amministratore delegato Descalzi, noi pronti a ogni confronto su salute e ambiente, proponiamo l'incidente probatorio in contraddizione con i PM. C'è da dire che anche qui di Graziano si ha poca traccia appunto nella titolazione della gazzetta del Mezzogiorno. Il gazzettino Veleni, il governo spinge le accuse, si riferisce alla vicenda di Genova. Avvenire, aprite quella cella, invece il titolo di apertura, che si riferisce a una vicenda di una donna pakistana che è detenuta a causa di false accuse di blasfemia, condannata a morte due volte, resta in isolamento. Asia Bibi, cristiana in carcere da 2.500 giorni, Daesh distrugge la chiesa dominicana a Mosul. Bene, queste sono le prime pagine. Ci sono alcuni argomenti come quello sulla reversibilità, le pensioni da segnalare nella rassegna stampa. Ci sono i servizi di Bianca e di Giovanni sull'unità, il governo cancella una norma contestata dal DDL povertà. Ancora Marco Valeri sul tempo, pensionati salvi, per ora la reversibilità non si tocca. Nicola Allegretti sulla Nuova del Sud. Sul messaggero la notizia dell'annuncio di Poletti sul ritiro dell'emendamento sulle pensioni di reversibilità è a pagina 3. Sull'invio delle buste arancioni da parte dell'Inps scrivono invece Davide Colombo e Matteo Priosci. Scusate, un solo 24 ore. Sullo stesso giornale Marco Rogari e Marco Mobili approfondiscono il tema della flessibilità previdenziale, selettiva e del taglio del cuno strutturale. Sull'operazione busta arancioni si scrive in modo critico sulla stampa Walter Passerini. L'operazione trasparenza di Boeri rischia di trasformarsi in un boomerang indirettamente legato al tema delle pensioni. La notizia della ricerca osserva salute di cui abbiamo parlato nel nostro GR poco fa, secondo la quale per la prima volta la speranza di vita degli italiani diminuisce. Ne parla Roberto Turno sul Sole 24 ore. Sullo stesso tema c'è un'interessante intervista al geriatra Roberto Bernabè sulla stampa. Non siamo più o nemmeno un paese per vecchi, adulti e anziani tendono spesso a trascurarsi. Serve uno stile di vita sano. Questo è un argomento importante, quello delle aspettative di vita e delle pensioni che affronteremo nei prossimi giorni, perché è un tema tipicamente popolare, qual è la nostra linea editoriale. Servirà appunto ad analizzare cosa c'è dietro questa vicenda delle aspettative di vita. Ricordiamo che tra l'altro per il sistema pensionistico italiano l'aspettativa di vita incide direttamente sulla data per andare in pensione, perché l'aumento dell'aspettativa di vita aumenta il numero di anni che bisogna accumulare per andare in pensione. Non vorremmo che dietro questo dato invece della diminuzione dell'aspettativa di vita accada un po' come con la benzina. Quando aumenta il petrolio l'aumento c'è immediato alla pompa della benzina, quando diminuisce il petrolio invece non è possibile rintracciare un effetto così duraturo e importante sul prezzo della benzina, o quantomeno paragonabile. Bene, allora noi ci fermiamo qui, tra pochi minuti torneremo dopo la pausa musicale per l'intervista a Franco Bettoni, presidente dell'AMNIL, che ci parlerà appunto degli incidenti sul lavoro delle malattie professionali. domani, ricordiamo, è la giornata internazionale. domani, ricordiamo, è la giornata internazionale. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti